Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati. E' questo il tema del momento formativo organizzato dall'ufficio diocesano Migrantes diretto da Donatella Danna. Migrantes è un organismo costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana per accompagnare e sostenere le chiese. Una delle sue finalità è favorire la vita religiosa dei migranti, stimolando percorsi e strumenti di evangelizzazione e catechesi, nel rispetto delle diverse tradizioni e per un loro inserimento. Al momento formativo è intervenuto Don Santino Tornesi, delegato Migrantes Regione Sicilia. Generalmente ogni ufficio diocesano ogni anno deve dedicare uno spazio convennistico. A me piace chiamarlo momento formativo perché ritengo che sulla tematica dell'immigrazione e della mobilità umana ci sia bisogno di tanta formazione e formazione. Il tema è Dal per al con, che è il titolo dell'ultima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che ci invita un po' a cambiare il punto di vista di come guardiamo gli stranieri migranti. Perché quando parliamo di fare qualcosa per, presupponiamo che noi siamo quelli bravi, buoni, belli, preparati, abbiamo qualcosa in più. è il migrante, il destinatario di una nostra azione magari assistenzialistica. Invece il Papa ci invita sempre più forte a cambiare questo punto di vista e a pensare a una società costruita con i migranti per valorizzare le loro risorse e le loro potenzialità.